La direzione di gara di Lazio, Torino non è andata proprio giù ai bianco celesti. Il Vitero, in vacanza a Dubai, ha parlato attraverso il direttore della comunicazione Stefano Dei Martini. Sono sconcertato. Si è lasciato sfuggire gli esseri capitoli, ma gli auguri irrati sono stati forti, forse in un tardo convinto. Terra ha girato altre operazioni alla stampa e portate questa mattina dai principali quotidiani. Se la Lazio dà fastidio basta saperlo. Dopo tutti i torti dell'anno scorso si ricomincia, ma si può andare avanti così. E un rigore di veloce? Inesistente. Se lo dai a dieci volte tu metti quello sociale. Dicharazioni forti e due ore dopo un match contrassegnato da decisioni più che discutibili del rispetto che stanno. Società, squadra e tifosi non vogliono rivivere quanto accaduto un anno a parte in una serie di partite sportive. La Lazio ha deciso di farsi sentire sperando che nel 2019 le cose possano, finalmente, cambiare.